Nuovo album per Bruno Venturini, il cantante che ha portato la musica napoletana nel mondo. The Greatest Teats raccoglie i successi dei suoi 40 anni di carriera. Sentiamo con Virginia Volpe. L'ambasciatore della canzone napoletana, l'artista che ha venduto 100 milioni di dischi nel mondo. Torna con un nuovo album, registrato negli Stati Uniti con una grande orchestra che raccoglie tutti i suoi successi. Un viaggio musicale lungo 40 anni, quello di Bruno Venturini, che decise di iniziare a cantare dopo l'incontro con il tenore e attore italo-americano Mario Lanza. Era un bambino, conobbi Mario Lanza a Roma. Lui girava a rivederci Roma, mi avvicinò, mi regalò 10 dollari e mi disse Ragazzo, tu canti molto bene, tu canti molto buono, devi studiare. Ragazzo, tu canti molto bene, tu pensi, tu ti amo, tu dico, tu sanno, tu sanno. Grazie a tutti.